benvenuti spettatori di le fonti tv a questa puntata speciale di instant focus dove parleremo come potete vedere anche nel titolo della nostra trasmissione di investimenti assicurativi quanto piacciono davvero agli italiani beh incominciamo nel dire che insomma gli italiani non hanno una grandissima cultura in fatto di assicurazioni a differenza di altri paesi europei innanzitutto come la francia la germania l'inghilterra per non parlare naturalmente degli stati uniti dove esiste praticamente un prodotto assicurativo per ogni aspetto della vita cercheremo insomma di capirne di più grazie al nostro ospite che ci ha raggiunto qui in studio ovvero il dottor cesare gabetta direttore vendite italia forward you life insurance lux a cui naturalmente do il benvenuto buongiorno grazie buongiorno dottor gabetta ecco innanzitutto dal punto di vista della congiuntura economica questo un periodo particolarmente complesso ovviamente la situazione è influenzata da diversi fattori la crisi energetica il conflitto in ucraina e per non parlare poi del problema annoso dell'inflazione però ecco questa crisi economica a livello globale sembra non aver toccato in particolar modo il settore assicurativo ci vuole spiegare il perché innanzitutto sicuramente è vero dobbiamo dire che i numeri che ci vengono forniti dall'ania non mentono questo ci permette di verificare che l'incremento della produzione vita è cresciuto dell'8.3 per cento nell'ultimo anno e addirittura nel ramo terzo quelle delle unit link addirittura del 37 per cento quindi i numeri ci dicono che la crescita è importante è altrettanto vero che bisogna fare delle ragionamenti per valutare questo aspetto la cultura assicurativa in italia è differente rispetto a stati europei come citava lei in inghilterra in francia in germania è molto più presente molto più attuata e molto più consolidata come strumenti assicurativi in italia siamo un pochettino più a rilento però dobbiamo dire che in virtù di questi numeri i dati stanno cambiando e stanno migliorando soprattutto per l'investimento a medio e lungo termine perché questo è importante un orizzonte temporale ecco l'orizzonte temporale focalizziamoci su questo aspetto perché lei ha citato il lungo termine è un po un diciamo un ragionamento anti intuitivo lo propongo naturalmente per quanto riguarda il pensare comune perché proprio l'incertezza ci porta a ragionare sul day by day e non a focalizzarci nel futuro invece la strategia migliore è quella giusto ma sicuramente in come citava anche lei la politica economica barra la politica in generale in questo momento è molto volubile quindi i mercati in questo momento sono sia all'alto che al ribasso molto velocemente dobbiamo dire che in un orizzonte temporale medio lungo il cliente il futuro cliente può prendere le migliori strategie che possono offrire i mercati sia quando le performance sono positive o eventualmente quando sono al ribasso è strategicamente dimostrato alla storia che ce l'insegna che in un orizzonte temporale medio lungo il cliente ha sempre degli aspetti di redditività molto importanti ecco quindi sicuramente focalizzarsi sul medio lungo termine è una strategia importante significativa per contrastare l'incertezza insomma di questa situazione e anche il problema della volatilità però appunto è una strategia sicuramente valida ma non l'unica e non sufficiente direi che un'altra parola chiave per orientarsi in questo momento è rappresentata dalla diversificazione giusto? Certamente sì noi come compagnia abbiamo dietro ad ogni nostro prodotto che noi offriamo sia la parte di controllo della volatilità sia la parte di diversificazione questi sono dei punti salvi strategici di tutti i nostri prodotti che mettiamo sul commercio sia per quanto riguarda il prodotto forward a conta che è un premio annuo ricorrente sia per quanto riguarda il prodotto premio unico che come dice la parola stessa è un premio unico quindi in tutti i nostri servizi noi abbiamo un controllo della volatilità quotidiana e un controllo della diversificazione che lavora 24 ore su 24 7 giorni su 7. Dottor Gabetta lei ecco ci ha raccontato ci ha illustrato fino a questo momento le strategie messe in atto appunto dalla vostra compagnia mediante appunto i vostri prodotti per affrontare questo momento particolarmente complesso contraddistinto come abbiamo sottolineato più volte dalla volatilità ma quanto sono flessibili i prodotti forward you per chi li sottoscrive? Questo è sicuramente un punto interessante perché per noi è importante che un cliente quando ci sceglie sia valido per lui il prodotto che va a sottoscrivere all'interno dei prodotti noi abbiamo varie flessibilità all'inizio e durante l'orizzonte temporale per quanto riguarda l'inizio abbiamo cinque profilature di rischio che ci permettono di valutare l'appetito del cliente e soprattutto valutare se questo aspetto è importante per lui con garanzie o senza garanzie altri aspetti comunque servono per seguire il cliente strada facendo in quanto in un orizzonte temporale medio lungo le esigenze che possono nascere possono essere molteplici quindi anche nel corso dell'orizzonte temporale noi andiamo a valutare se ci sono necessità per il cliente a livello di equilità e quant'altro senza penali eccetera per restituire una parte dell'investimento fatto del cliente chiarissimo è stato davvero insomma esplicativo e la ringraziamo insomma per averci fornito soluzioni e strategie anche dal punto di vista assicurativo per affrontare questo momento che è davvero complesso dal punto di vista economico finanziario e politico io la ringrazio dottor Gabetta per essere stato qui con noi alle fonti tv grazie mille bene allora si conclude così questa puntata speciale di instant focus dedicata appunto al mondo assicurativo io vi rimando alla programmazione di le fonti tv mi raccomando restate con noi